Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È trascorsa una settimana esatta dal 9 novembre, quando la prima scossa di 5.7 registrata in mare davanti alla costa del nord delle Marche ha provocato sfollati e danni. Quella di domani, giovedì 17 novembre, sarà una giornata cruciale per le scuole anconetane perché i 480 alunni dei treplessi lesionati dal sisma saranno accolti in altre strutture. Nelle nostre immagini esclusive vi mostriamo i banchi della materna 25 aprile pronti ad essere trasferiti nella vicina scuola d'infanzia Verne. Si tratta di una delle strutture maggiormente lesionate, tanto che, come le altre due, verranno quasi certamente demolite entro fine anno. Nelle immagini si vede tutto quello che in queste ore, grazie ai vigili del fuoco, è stato recuperato. Appendini, banchi, resti di sedie, un pianoforte e altro materiale. È una scuola materna che ha 30 anni e si trova a poche centinaia di metri da Palazzo Raffaello, sede della regione ed è vicinissima ai licei classico e artistico e ad altre scuole, sopra la galleria che conduce al centro di Ancona. I circa 150 studenti delle scuole medie Pinocchio, invece, verranno ospitati dalla Falcone e dalla Montagnola. I ragazzi si ritroveranno domani mattina al parcheggio del cimitero del Pinocchio per poi essere trasferiti in autobus nei nuovi plessi. Infine, i 250 studenti delle medie podesti in via Urbino andranno alle Tomaseo. Questo il punto fatto dal sindaco Valerio Mancinelli che aggiunge. Guardi, sulla gravità, e questo è parlare, per chi non è un tecnico è difficile, possiamo dire questo, sono danni che richiedono lavori non di pochi giorni, ma di mesi, questo sì. Quindi evidentemente sono danni più complessi e lavori più complessi, questo sì.